Con oltre mille servizi realizzati in ogni parte del mondo, Mauro Galligani è senza dubbio uno dei fotogiornalisti più importanti del nostro dopoguerra. La sua decennale carriera scatto dopo scatto adesso è in mostra al CIFA a Bibbiena, con l'antologica alla luce dei fatti, visitabile fino al 4 giugno. La mostra, che si snoda nelle 16 celle e nel corridoio del CIFA, si sviluppa per grandi temi, che suddivisi per aree geografiche ripercorrono alcuni degli eventi politici, sociali e di costume che hanno fatto la storia tra gli anni 70 e i giorni nostri. La chiave di lettura può essere innanzitutto seguire questo percorso. La mostra è divisa in vari reportage, una quindicina di reportage, ha un senso di racconto perché una mostra deve avere un senso di racconto e stimolare la curiosità di chi vede una fotografia e andare poi a conoscere meglio quell'episodio. Non è necessario far vedere se uno sa più o meno fare le fotografie perché è la cosa più stupida in una mostra. Sperare che possano venire le scuole e dare un significato al lavoro fatto per tanti anni. Mauro Galligani non si ferma e già pensa al futuro da raccontare ovviamente attraverso i suoi scatti. Mi sono occupato poco di migrazione e fra poco inizierò perché devo, con l'aiuto della Marina Militare, comincerò a occuparmene da un punto di vista però un pochino positivo, vedere una tragedia con uno sbocco finale di positività. Poi le storie si costruiscono man mano che le cose accadono. Mi occuperò approssimamente di questo tema.